Ottavo giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Suor Teresa era devota di Sant'Agostino e questa preghiera rispecchia al meglio la sua vita. Per questo vogliamo iniziare con essa la nostra richiesta di grazie nella viva speranza che Dio la faccia partecipe della sua gloria in Paradiso. Vita per la quale vivo, senza la quale muoio, vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto, vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato. La tua incrollabile speranza, come la fede su cui poggiava, era sostenuta e arricchita dalla tua operosa umiltà. Confidavi in Dio e da Lui tutto speravi. Questa fiducia alimentata da una preghiera assidua ti rendeva forte nell'affrontare difficoltà e calma nelle contrarietà. In virtù di questa tua forza d'animo, uniamo alla tua la nostra speranza. Confidiamo nel tuo aiuto perché tu interceda per noi presso il Signore, affinché ci conceda la grazia che desideriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarsi dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Suor Teresa, Valsei Pantellini, prega per noi. Invochiamo ora insieme l'intercessione di questa venerabile e chiediamo la sua glorificazione. O Gesù, che hai detto di imparare da te, mite umile di cuore, degnati di glorificare la venerabile Suor Teresa Valsei Pantellini, tua sposa fedele e generosa apostola. Concedi a noi le grazie che per sua intercessione ti chiediamo e fa che possiamo imitare la sua fede e la sua carità, per amarti e lodarti in eterno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.